Questa è una delle collane curate dal coordinamento delle teologhe italiane che è un'associazione nata nel 2003 grazie all'intuizione di Marinella Perroni, biblista, che ne è stata anche la prima presidente. Il coordinamento è nato per dare visibilità e sostegno reciproco alle teologhe e alle studiose di genere afferenti comunque all'area diciamo cristiana in particolare che già operavano nelle facoltà che già studiavano e che già diciamo erano impegnate anche nella divulgazione. Devo dire che all'inizio eravamo guardate con un po' di risa dai nostri colleghi uomini che dicevano cosa serve un'altra associazione teologica ce ne sono tante perché è solo di donne eccetera eccetera e devo dire che il fatto di aver cominciato questa collana ci ha permesso di pian piano sfatare questo atteggiamento di scalfirlo perché adesso a distanza di più di dieci anni con 23 volumi pubblicati non solo veniamo chiamate e rispettate dai nostri colleghi uomini ma soprattutto veniamo anche citate. Allora questa collana ha proprio questo specifico di essere una collana di volumi seri ma non accademici e quindi di avere un pubblico potenzialmente vasto. Sono libri che parlano tutti e appunto a vari livelli e che aprono moltissime porte non sono libri per un pubblico di addetti ai lavori c'è anche al centro di queste pubblicazioni un interesse molto particolare per l'ecumenismo e quindi il dialogo tra le fedi la presentazione di società di culture diverse di appartenenze diverse di identità. E proprio perché il coordinamento si pone in modo trasversale perché ha al suo interno teologhi di diverse discipline e studiosi di diverse discipline anche questa collana ha uno spettro di temi molto vasto che va dal recupero della memoria di storie presenze e esperienze delle donne che erano rimaste nell'ombra a studi che guardano avanti che guardano all'attualità per esempio gli studi di genere e a studi che mostrano come il contributo delle donne e delle teologhe specifico alla pensiero della chiesa sia qualcosa che fa riformulare l'insieme in un modo che va a vantaggio sia degli uomini che delle donne per una chiesa inclusiva e che ci raccontano queste esistenze di donne che vivono la loro vita in ambienti differenti ma che hanno un legame tra loro perché moltissime di loro hanno come obiettivo la dignità di sé la ricerca lo studio il desiderio di di avere il proprio ruolo riconosciuto all'interno della società collaboriamo con la casa editrice e fatà di cantalupa vicino a torino abbiamo un sostegno economico da parte della tavola valdese che ci aiuta e devo dire che le nostre socce sono delle brave lettrici quindi ci aiutano a diffondere a pubblicizzare tutti questi volumi